Da quanto è che non ti appare la Madonna? La Madonna? Perché? Perché sei un pastore E quindi? A tutti i pastori appare la Madonna Ma con Zio Gaetano cosa è successo? Tu devi farti gli affari tuoi, capito? Devi smettere di ascoltare i discorsi degli altri I discorsi degli altri? Sono discorsi anche miei? No, non sono discorsi tuoi Dove sei? Sei venuta a sola? Si A piedi E da dove? E parla una domanda ogni tanto